Ciao a tutti ragazzi, qui è il vostro Arche Iparla e finalmente qualche news per la Season 2 Reloaded, anche se come sempre è tutto all'ultimo secondo. Dato che ci sono state pochissime news, io pensavo che questa Season Reloaded sarebbe avvenuta magari settimana prossima o addirittura la prima settimana di aprile. Così non è, la Season Reloaded è domani e c'è un'altra news ieri sera. Non sto qua troppo a rompere, andiamo direttamente alle news con il blog di Call of Duty e tutte quante le informazioni per Warzone, Multiplayer, Zombie, qualche weekend di XP doppi, XP armadoppi, che penso arrivi il weekend del 27 o qualcosa del genere, che già in realtà si sapeva da diverso tempo, e quella che forse è la news più interessante di tutte, il bundle di Snoop Dogg. Procediamo comunque con ordine, questa è l'immagine della Season Reloaded, della roadmap, e penso che tutti si accorgono che c'è qualche piccola mancanza. Vedo multigiocatore, vedo Warzone, vedo operatori, armi, Rebirth Island, bundle e tutto quanto... Dove sta Zombie? La cosa un po' mi puzza. Ci arriviamo comunque tra poco, perché ci sono ovviamente delle news di Zombie da parte di Trek sul loro profilo ufficiale di Twitter, ma sono molto molto distrette, e quel poco che c'è è ancora più basso di quelle che erano le mie aspettative, e se in una Season Reloaded mi aspettavo veramente il giusto per dei contenuti, ma qua siamo veramente molto molto in basso, purtroppo. In ogni caso, per chi fosse interessato, stanno partendo degli update direttamente oggi quello di Vanguard alle 18, e domani sempre alle 18, quello di Warzone, per far partire questa Season Reloaded, che penso come al solito parti, diciamo in anticipo, per Vanguard il giorno prima, forse per i contenuti di Zombie, e ufficialmente da domani per Warzone, e tutti altri contenuti multigiocatore, o giusto per confermare che la Season Reloaded è partita circa per tutti quanti. Per chi fosse interessato ai contenuti di Warzone, come sempre il blog è in descrizione, passando comunque molto molto velocemente grandi aggiornamenti per Rebirth Island, e sono sicuro che in tanti siano contenti, e anche tante altre modalità come playlist di aggiornamento ogni volta alla rotazione, più tanto altro per quelli che sono i contenuti tutta la Season, per cui altre armi, altre feature, altri progetti e tanto altro. Ci saranno quindi tanti cambiamenti a tutta quanta Rebirth Island, verrà finalmente in parte modificata, nonostante dall'originale di Alcatraz sia rimasta pressoché identica, è chiaro che comunque è bello che sia un'app molto molto piccola, per chi vuole azione veramente istantanea, quando io giocavo a Warzone non ho praticamente mai toccato né Verdunsk né Caldera, ma principalmente Rebirth Island, anche per il fatto di respawnare alla fine. In più torna un'altra modalità, tra cui Rebirth Resurgence Solo, Rebirth Payload e Rebirth Blob Money, anche se sapevo che altre modalità messe in precedenza venivano o cambiate o messe assieme per fare altre modalità uniche, che come al solito comunque saranno in rotazione e cambieranno ogni singola settimana. Passando invece a quelli che sono i contenuti di Vanguard, c'è una nuova modalità 12v12 chiamata Corsa alle Armi, che sta arrivando ad alcune mappe specifiche, anche nuovi veicoli, ovviamente nuove armi che arrivano per tutti quanti, e ci sono anche per i contenuti di zombie, e tutti quanti gli aggiornamenti per la Ranked Play, come sempre riportati in seguito da Treyarch, di cui alcuni sono in season, e tutto quanto appunto, dato che lo sta gestendo Treyarch, lo pubblicano o sul loro blog o sul loro profilo Twitter. Zombie! Questo è lo screenshot, questo è quello che ci stanno dando di contenuti, quindi non aspettiamoci qualcosa di gigantesco, come ho detto prima, anche io mi aspettavo il giusto per questa Season Reloaded, avevo previsto magari un obiettivo, un'arena, l'aggiunta appunto dell'arma, qualche patto, finalmente la pausa. Qua vado un pochino diciamo off script, per quanto io non abbia mai degli script nei miei video, ma voglio essere pienamente oggettivo, perché questa è una critica secondo me oggettiva. Ci hanno fatto aspettare praticamente metà del ciclo vitale del gioco per la pausa, ed ecco che finalmente arriva. Loro stessi poi nel post di Treyarch dicono che questo cambiamento non è che sia stato qualcosa di istantaneo, ma anche molto molto complicato a causa di questi server dedicati. E alla fine di tutto io arrivo a dire questo, ci danno finalmente la pausa soltanto in singolo, e va bene, un po' lo posso accettare. Questa pausa è un massimo di due ore per partita, dato che non si possono occupare i server dedicati per un tempo illimitato. Questo mi conferma al 100.000% che zombie non sarebbe mai dovuto arrivare con server dedicati. Zombie funziona da sempre benissimo al peer-to-peer con un host, e su Cold War la pausa dal lancio anche su The Dops ha sempre funzionato senza alcun problema, specialmente in singolo, ma anche in cop. In più, due ore in tutto, fanno comode per andare in bagno qualche pausa cibo, ma due ore per una partita veramente lunga per chi vuole fare un high round serio, non è assolutamente abbastanza. Pause più lunghe per mangiare, pause multiple per comunque rimanere un attimo sani di mente, o pause per dormire, due ore non basteranno assolutamente mai. In più, non tutti quanti giocano in singola Vanguard, ma piuttosto in co-op, e ci sarà sicuramente ancora il problema di essere disconnessi per un'attività o roba del genere. Ci confermano come sempre che si può mettere in pausa in singolo offline locale, ma un pochino grazie a non diciamo che cosa, e come sempre su PC non si può fare, perché non c'è l'offline. Nuovamente, l'altra conferma che mi dà questo, oltre al fatto che non dovevano funzionarci i server dedicati per zombie, è che lo zombie di questo gioco non doveva praticamente esistere, a mio parere. È una conferma ulteriore, che tutto quanto è stato fatto veramente di corsa all'ultimo secondo, e ci hanno messo così tanto a fare questa pausa, e neanche perfetta come volevamo, perché non si possono mettere in pausa dei server dedicati. Questa modalità andava fatta completamente a parte, con più tempo e più attenzione, come è stata fatta su Cold War, per quanto anche il tempo di sviluppo fosse relativo. In questo caso posso dire sì meglio di niente, ma tutti gli effetti, comunque secondo me, la pausa non c'è. Togliendo questo rant aggiuntivo, andiamo avanti con i contenuti oggettivamente parlando, Armaguerra 43 come SMG, che arriva come detto prima anche per multiplayer, e per zombie, l'arrivo di sacrificio come obiettivo anche su The Run Fang, che prima mancava, e due nuovi patti chiamati Critical Expertise, e Explosive Expert. Per quanto riguarda il primo, tutti quanti quelli che sono i colpi non critici, hanno una piccola probabilità di diventare critici, per 10%, 20% e 30%, con un bonus di danno del 50% per raro, epico e leggendario. In seguito a quello che è Esperto di Esplosivi, fa più danno ai nemici e meno danno a noi, per 50% e più di danno ai nemici e 50% in meno, e rispettivamente 75% entrambi e 100% entrambi, per raro, epico e leggendario, anche se la Regan purtroppo non è influenzata da questo patto. E purtroppo ci fermiamo qui per quelle che sono le aggiunte di zombie di questa Season Reloaded. Come ho accennato prima, anche se rimane un attimo oggettivi, questa pausa è arrivata, arrivano l'arma e due patti, ma oggettivamente nel gioco non è che ci sia molto altro in più da fare, a parte magari finalmente la granata che ci danno per finire le sfide stagionali, siamo un pochino punto e a capo e si aspetta la Season 3 a questo punto, vorrei dire, sperando in meglio, circa. Proseguendo per tutti gli altri contenuti che arrivano per Vanguard, il nuovo operatore, come detto prima, la nuova arma, nuovi pro pack per bundle e quindi nuovi operatori. Come ho accennato all'inizio video, la cosa più interessante è il bundle di Snoop Dogg, che è arrivato a circa un mesetto, se ricordo bene nell'altro blog, dovrebbe essere il 19 aprile la data finale. Comunque il personaggio sarà disponibile anche su Code Mobile, in quelli che si ricordo bene sono le ruote casuali per ottenere oggetti, tra cui anche un operatore, e tutte quante le battute sono ovviamente fatte da Snoop Dogg, e lui è un operatore a parte, non per dire una skin di qualcun altro, qualcosa di completamente staccato. Forse uno dei contenuti più interessanti in assoluto per Vanguard, a questo punto, anche se come sempre sarà probabilmente un bundle da 2.000-2.400 code points, quindi costosetto. Sono interessato, stiamo comunque a vedere, tutti quanti quelli che sono i contenuti del bundle, oltre l'operatore. Nel loro post di Twitter, comunque, Trek dice che ci sono altre cose non segnalate, tra cui Wonder Weapon Improvements, e altro, quindi aspetterei delle patch notes per vedere tutti quanti i cambiamenti per bene. C'è il problema molto spesso su Vanguard, che le patch notes sono sul sito e sul blog di Sledgehammer Games, che non sempre è aggiornato, o di solito comunque le patch notes sono cortissime. Trek nei loro blog, comunque, metteva l'elenco precisissimo di tutti quanti i contenuti e i cambiamenti. Non so se i cambiamenti proprio in sé per Vanguard sono minori o comunque meno di numero, o tante altre cose, secondo me, non vengono sempre segnalate. Pensiamo anche a tutti quanti i cambiamenti dei perk, la vita degli zombie o altre cose, che sì, ce ne siamo accorti noi, ma non mi pare fossero scritti veramente bene nelle patch notes. Beh, ragazzi, quindi questi sono tutti quanti i contenuti che arriveranno da stasera o domani per quanto riguarda Vanguard. L'aggiornamento, penso, sia già partito, non saprei dirvi il peso specifico, ma sono sicuro che da oggi alle 18 qualcosa verrà aggiornato di Vanguard e domani invece per Warzone. Come sempre, tantissimi problemi per quanto riguarda queste season e season reloaded, pessima tempistica per quanto riguarda un attimo fornirci informazioni per questi contenuti e i contenuti in sé lasciano molto a desiderare. Penso di sapere la maggior parte delle opinioni di tutti quanti, ma come sempre sono interessato a sentirle, penso che tornerò su Vanguard per dare un'occhiata a questa pausa, provare magari qualcosina e vedere gli altri cambiamenti che dovrebbero esserci in alcune patch notes magari non segnalate per vedere se il gioco comunque viene migliorato. Ma alla fine di tutto, guardiamoci un attimo in faccia, non penso che tornerò su Vanguard per tantissime ore di gioco, finirò le sfide stagionali e saremo probabilmente da capo. Cerchiamo di essere un pochino più ottimisti vedendo un futuro più roseo il video si conclude qui, spero come sempre che vi sia piaciuto vi sia stato utile, tutti quanti i link a queste informazioni possibili per Treyarch e Call of Duty tra blog, post e tanto altro sono qui sotto in descrizione, ci sono anche tutti quanti i link per i miei social tra cui Instagram, Twitch e anche il canale Discord, ci danno come sempre a un prossimo video. Un abbraccio. Alla.